L'anno seguita all'esterno del policlinico e nel bagagliaio della sua auto hanno trovato materiale sanitario trafugato nel reparto, oltre a quello trovato durante la perquisizione a casa per un valore complessivo di 600 euro. All'esito del processo per direttissima che si è celebrato ieri, la donna ha patteggiato la pena per il reato di peculato, il Tribunale ne ha disposto la remissione in libertà. L'ostetrica Nicoletta De Tullio, 55 anni, in servizio presso la clinica di ostetricia e ginecologia del policlinico di Bari, è stata sospesa dal suo datore di lavoro che ha avviato un procedimento disciplinare a suo carico. A sorprendere in flagranza la donna sono stati i carabinieri mentre questa rientrava a casa con un pacchetto che conteneva materiale sanitario. Le indagini tra pedinamenti e appostamenti sono partite in seguito alle segnalazioni sulla continua sparizione di materiale nel reparto di ginecologia. I sospetti sulla donna si sono accentuati soprattutto quando l'ostetrica, al termine del proprio turno di lavoro, lasciava il reparto con buste di plastica anonime che riponeva nel bagagliaio della sua auto. Nell'abitazione dell'ostetrica sono stati trovati aghi, siringhe, guanti in lattice e farmaci ad esclusivo uso ospedaliero. Una piccola farmacia insomma il cui uso è ancora sconosciuto.